Questa è la situazione Peter! Oh sincero No 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 ragazzi ragazzi Sincero il mio videomaker è quello più coraggioso di tutti Perché c'è i ferri caricati in faccia E non ne fa una piega Di giorno non fa una piega ragazzi Guardatelo Il videomaker più coraggioso d'Italia Mola Mollatelo ragazzi Oh Lupo com'è? Hai sistemato la macchina qua? Hai sistemato? Sì guarda che bella Guarda che bella Come ancora? Come ci fanno? No no È rimasta a mano Andiamo 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 NPT Fuori di là Fuori di là Un NPT Un NPT C'è famiglia C'è famiglia C'è famiglia Un NPT C'è famiglia